Sarà uno del centri fitness più VIP della capitale, è area dove il benessere è eco-compatibile, di Pietro Mezzaroma e figli. All'inaugurazione della palestra a due passi da Via Cortina d'Ampezzo, tantissimi famosi, Natali Caldonazzo con la figlia, Matilde Bramini, Milena Miconi, Antonella Elia, Vincenza Cacace con il marito, l'ex calciatore della Lazio e del Milan Giuseppe Pancaro, Marco Falaguasta, Irene Ferri. Tra un cocktail e un giro tra il tapilurano di ultima generazione, con tanto di schermo LCD incorporato, nel star del piccolo e grande schermo hanno saggiato come far tornare in forma il proprio fisico. Pure se, a dir la verità, già sembrano tutti bellissimi. Grazie a tutti.